Matteo Salvini si è regata a Ostia oggi, 6 novembre 2019, e si è fatto un giro per le diverse strade del quartiere. Sul litorale romano, Matteo Salvini, ex ministro dell'Italia, si è voluto cedere anche a molti selfie, molte foto, che sono stati scattati da diverse persone che abitano a Ostia. Si è fatto un giro tra le strade più degradate delle palle, tanti lo hanno applaudito anche dai balconi delle case popolari, dai cornicioni distrutti. Addirittura è entrato in una di queste case, quasi tutti gli hanno urlato, vai Matteo Salvini, a un certo punto sotto uno di questi edifici, Matteo ha deciso di raccogliere da terra di alcuni calcinacci e avrebbe detto questi riporto stasera in trasmissione da Mario Giordano. Sergio Gocoripeto, applausi dai balconi, e Matteo Salvini ha ricordato che il 28 novembre faremo un'iniziativa cittadina all'EUR, mi raccomando, scrivetelo, per lanciare la campagna e il programma della Lega per Roma. Sicuramente questo è un evento importante, quello di oggi, in cui Salvini ha sancito de facto, di fatto, la, chiamiamo la ricetta giusta per tornare a vedere, o meglio a intravedere una città migliore che riparta proprio da Ostia sul litorale romano. Un saluto caro a voi, da Leandro, narratore italiano, iscrivetevi, mi raccomando, commentate. Un saluto caro e al prossimo video.